Vi presento questa homebrew per Nintendo che si chiama The Great Gatsby e di cui trovate il link per scaricarla in descrizione Ho cercato informazioni in rete riguardo a questo prodotto e ho trovato articoli discordanti C'è chi dice che sia un unrelease, chi dice che sia stato un videogioco creato prima per telefonini Con un aspetto grafico 8 bit e poi trasferito su NES C'è invece chi dice che sia stato prima un prodotto flash con la grafica da 8 bit e poi trasportato su Nintendo Non so quale delle tre sia quella corretta Ho anche guardato per vedere se trovavo una versione fisica E non ho trovato nulla di sicuro Quindi io ho realizzato il long play Ho messo il link per scaricare la versione gratuita in descrizione E ve lo propongo perché è molto semplice e molto breve Però è anche abbastanza divertente E tecnicamente pur non brillando è comunque apprezzabile Vi auguro buona visione e vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale Supportano il mio lavoro Allora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.